Prima cosa, attribuzione del Made in Italy solo alle aziende che producono in Italia. Basta, basta. Siamo i secondi produttori al mondo di olio d'oliva. Siamo i primi importatori al mondo di olio d'oliva. C'è qualcosa che non può fare, tutto l'olio lampante spagnolo arriva qua, olio di merda, lo tagliamo con il nostro. Ci mettiamo Made in Italy e riparte con un euro di più al litro perché si chiama Made in Italy. Basta, è il nostro 18.000 famiglie che producono l'olio più buono del mondo, ha vinto di nuovo un pugliese. Abbiamo delle famiglie meravigliose, piccole imprese che non ci stanno più. Questo Beppe Grillo in diretto, l'avete sentito da Torino, molti i suoi temi, molte le sue ragioni. Noi ci fermiamo solo un istante. E questo era Beppe Grillo, molti i suoi temi, molte le discussioni e molte le persone. Peccato che il TG Com non le abbia mai fatte vedere. Ancelo! Ancelo così! Eccolo lì! Eccolo lì! Sono incredibili! Sono incredibili! Sono dei bambini sulla comunicazione. Quando si appresano ad entrare nella comunicazione sono bambini. Un'informazione che è arrivata qua perché l'informazione in tempo reale è incredibile. Allora, attivisti 5 Stelle chiedono all'operatore di TG Com di inquadrare la piazza di Torino. E loro mandano la pubblicità. Lui non c'entra! 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 Lui è un operatore, non c'entra! Questa è la nostra riformazione.